Il consigliere regionale della Lega Leandro auspica un cambio di passo per l'ente Parco Valdagri, che a suo parere è incapace di seguire i propri compiti a causa della mancanza di figure amministrative essenziali per gestire, coordinare e pianificare l'insieme delle attività necessarie a renderlo efficiente, operativo e innovativo. Nel riporre fiducia nel nuovo governo Draghi che ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica a guida dell'esperto Roberto Cingolani, Leandro spera che ci sia una ricaduta positiva sull'ente e sul territorio. Il Parco, precise il consigliere, rappresenta un'opportunità di rilievo in un'epoca dove il verde è e sarà sempre più protagonista dello sviluppo e della crescita economica. Per Leandro va ottimizzata la sua gestione, progettando una strada che conduca alla sostenibilità e offra un terreno fertile alla ricerca e alla promozione turistica. Così si potrà creare una situazione economica positiva, in sinergia con il territorio, valorizzando il patrimonio forestale e garantendo un miglioramento delle condizioni economiche e sociali nell'intera area di riferimento. A tal fine, conclude l'esponente della Lega, è necessario che la macchina amministrativa riprenda pienamente la sua operatività, terminando così il periodo di commissariamento.